Eccoci in Malesia, dove stanno per iniziare le importantissime qualifiche. I piloti sono pronti e siamo solo in attesa del verde per cominciare. L'anno scorso abbiamo assistito a una gara spettacolare in Malesia e prevedo un altro weekend affascinante qui a Kuala Lumpur. Abbiamo almeno tre o quattro piloti che potrebbero essere forti contendenti per la pole position di domani, quindi è difficile prevedere chi la spunterà. Le qualifiche di oggi saranno appassionanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Direi che può ritenersi soddisfatta la Mercedes. La prima fila in griglia di partenza è loro. Una sessione stupefacente per questa squadra che ha lottato caparbiamente per questo risultato. Ecco tutti i loro sforzi ripagati.